A San Giovanni Marignano si affrontano Marignanese e Corticella, squadre distanziate in classifica di due sole lunghezze. Per il momento la Marignanese ha timbrato la casera della vittoria dei Parigi della sconfitta, dopo il K.O. nella supersfida con il Diego di domenica scorsa e dopo l'importante successo nel recupero di mercoledì con i classe, la formazione di Lilli trova di fronte una signora squadra che non conosce mezze misure e con due vittorie e una sconfitta. L'inizio è di marca ospite, Nanetti pennella per Trombetta, la cui conclusione era avvicinata, chiama, al miracolo, Azzolini. Meno pericoloso l'ha solo tentato Nanetti due minuti più tardi, comparata facile questa volta dell'estremo di casa. L'acuto della Marignanese è affidato al piede caldo di Conti, che da calcio piazzato impegna così Garoia. Il Corticella sbocca la gara poco dopo. Cross di Nanetti, velo di Trombetta per la corrente Broglia, che viene steso a giudizio arbitrale da numero due Ferrari, che rimedie nell'occasione di giallo. Il replay ci aiuta a capire meglio il contatto che avviene tra il numero due di casa e il numero nove ospite. Dagli 11 metri si presenta Nanetti, che trasforma nel set alla destra di Azzolini, per l'1-0 ospite. La Marignanese opta per la soluzione della distanza, lo scambio Conti, Carne Secchi, fa sporcare i guantoni a Garoia. E quando dall'altra parte Trombetta decide di suonare la carica, sono brividi per la difesa giallobru. Ma anche il Corticella rischia di tagliarsi la corda da solo. Quando Tonelli e Garoia giocano, alla prendo io, la prendi tu. Ecco che nasce una frittata che per poco Rivi non tramuta in gol. Squadra riposto sullo 0-1. Ad inizio ripresa Nanetti sotto misura sfiora la marcatura. E quando Ferrari carambola così su Marchesi, rimedia il secondo giallo, lasciando anzitempo il terreno da gioco. Marignanese a questo punto in 10 unità. Sembrerebbe la classica domenica no. Invece la Marignanese inizia a giocare. La rovesciata di Rivi si spegne alta. Dall'altra parte Nanetti si esibisce in un dribbling non-look. Vedo e non vedo. A vedere il pallone finale e il portiere azzolini. Basta e avanza per mantenere in vita la Marignanese. Da punizione di Conti, Garoia vola sul colpo di testa di Sartori a dire di no. Ma dalla conseguente rimessa laterale in pieno recupero i Lily Boys trovano il pareggio proprio grazie alla deviazione finale di Sartori che mette i titoli di cota decretando l'1-1 finale.